La riapertura delle scuole superiori torna ad essere tematica centrale nel dibattito pubblico dopo le osservazioni effettuate dal Comitato Tecnico Scientifico, il quale si è espresso favorevolmente sul ritorno in classe degli studenti delle superiori. Il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, aveva firmato un'ordinanza che segnava lo slittamento della ripresa delle lezioni dal vivo e confermava l'utilizzo della didattica a distanza fino alla fine del mese. Ordinanza che, come affermato dallo stesso Acquaroli e a seguito delle decisioni dei governatori di altre regioni, potrebbe essere rivista per anticipare a lunedì 25 gennaio il rientro in aula dei ragazzi. Il problema è che non sappiamo l'effetto che si va ad avere nella messa in movimento, rimessa nelle strade, nelle piazze, di una massa importante di persone, di tantissimi ragazzi e di tantissime famiglie che accompagnano questi ragazzi presso gli istituti scolastici. È stato un effetto di precauzione e su questo vi posso anticipare, come già era scritto nell'ordinanza, che se l'andamento della curva rimarrà con l'RT sotto a 1 anche nella prossima settimana e se l'andamento della curva e dei numeri di questa settimana sarà confermato nella prossima settimana, credo che noi potremmo pure pensare ad un provvedimento che vada ad anticipare il rientro in presenza al 50% delle scuole superiori. Tutto sta nei numeri, tutto sta nelle situazioni oggettive, tutto sta nel verificare giorno dopo giorno quella che è la situazione reale. I presidi si dicono pronti per la riattivazione delle lezioni in presenza al 50%, anche se come sottolineato dai dirigenti scolastici delle scuole superiori del territorio, tra cui quello del liceo scientifico e presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi Riccardo Rossini, sono necessarie diverse operazioni per garantire il massimo livello di sicurezza all'interno delle scuole. In primis il tracciamento dei casi positivi e una ripetuta attività di screening e controllo mediante i tamponi rapidi. Altra arma di fondamentale importanza risulterebbe essere una rapida chiamata per le vaccinazioni anti-covid-19 di tutto il personale scolastico, professori e collaboratori over 40. La volontà di tornare appena possibile tra i banchi è strettamente connessa alla preoccupazione per quanto riguarda l'abbandono scolastico, che negli ultimi mesi ha registrato numeri in crescita anche negli istituti del nostro territorio. Ad ogni modo a rimanere determinanti saranno i numeri dei casi positivi registrati in Regione. Il monitoraggio dei dati relativi ai nuovi contagi di questa settimana permetterà al Governatore e alla Regione di confermare il ritorno anticipato degli studenti tra i banchi oppure di continuare con la didattica a distanza fino alla fine del mese.